Buongiorno, oggi voglio mostrarvi il nostro nuovo localizzatore satellitare con registratore di percorso. Che cosa significa? Che questo dispositivo non invia, non trasmette in tempo reale la posizione del mezzo, ma la registra. Perciò, una volta recuperato il dispositivo, che avremo posizionato all'interno del veicolo, potremo sapere tutti i spostamenti di quel mezzo che ha compiuto nell'arco di 40 giorni. La memoria, infatti, di questo dispositivo tiene fino a un massimo di 40 giorni di posizioni. La batteria ha una durata di circa 40 ore e tutto ciò noi lo potremo rivedere tramite un software fornito in dotazione con il dispositivo. La cosa molto positiva di questo dispositivo è che, eventualmente, in caso di bonifica, non può essere rilevato perché non trasmettendo dati nessun rilevatore di microspie sarà in grado di poter trovare il localizzatore nascorso nell'autovettura. Viene utilizzato anche per monitorare i spostamenti di pacchi o di valigie o di un qualsiasi tipo di oggetto che vogliamo monitorare. Il dispositivo ha una durata, come dicevo prima, di circa 40 ore come batteria. Ha una batteria ricaricabile che potete vedere qui all'interno del localizzatore. È ricaricabile, perciò con l'alimentatore in dotazione potremo tranquillamente ricaricare la batteria ogni qualvolta che necessita. Il tutto è in vendita sul nostro sito internet che è www.sviare.com o altrimenti potete acquistarlo direttamente qui presso il nostro punto vendita. Vi ringrazio per averci scelto e vi auguro una buona giornata.